Verona Museo del Vino vuol dire Verona Capitale del Vino. L'abbiamo detto in più di un'occasione, Verona e Vinitali sono un tutt'uno, in Italia ma anche nel mondo attraverso tutte le iniziative che vengono fatte. Quindi l'idea di avere un Museo del Vino vuol dire ragionare di vino 365 giorni all'anno. Sarà un'opportunità che promuoverà Verona nel mondo e nello stesso tempo che porterà nuovi turisti nella nostra città, valorizzando l'aspetto enogastronomico particolarmente attrattivo per molti. Così è stato presentato il progetto del Museo del Vino. Io penso che il Museo del Vino vuol dire parlare anche di enoturismo. In Italia parlare di enoturismo sembra veramente ancora, siamo ancora all'anno zero. E quindi l'enoturismo muove tantissimi turisti in giro per il mondo, turisti altospendenti che sono turisti che arrivano su territori e portano ricchezza. E quindi l'idea di avere un Museo del Vino che ragiona di vino, che parla di vino, che racconta di vino ma che ti dà la possibilità anche di poter conoscere il territorio e conoscere ancora di più la città, io sono convinto che anche a livello economico sia una bella sfida per la città. Rappresenterà tantissimo. Verona è la capitale del vino, abbiamo il Vinitali e soprattutto in un momento come questo in cui dobbiamo ripartire, riportare l'attenzione sulla nostra città, il Museo del Vino è fondamentale. Sarà nelle gallerie mercatali di fronte alla fiera e quindi tutto l'anno, non solo durante il Vinitali, Verona sarà la capitale del vino, diventando anche con questo asset un forte attrattore di turismo. Il Museo sarà ospitato nelle gallerie mercatali dell'ex mercato ortofrutticolo di Verona Fiere e darà spazio ai vini delle varie regioni italiane e dei paesi del mondo. Ci saranno aree tematiche, meeting, congressi ed eventi per rilanciare il territorio e le specificità veronesi e italiane. È un sogno che sta diventando realtà, sono convinto che questa iniziativa porterà uno slancio al turismo e all'economia di tutto il territorio. Ovviamente stiamo parlando di un museo internazionale, non parlerà solo di Veneto, di Verona e nemmeno di Italia, ma parlerà di tutti i vini provenienti da tutto il mondo. Dare dei tempi precisi è difficile, comunque vogliamo correre e arrivare molto prima delle Olimpiadi del 2026 ad avere questa struttura operativa e in grado di attirare questo nuovo tipo di turismo.